ormai da qualche anno a grottaglie il vino e musica ma anche cinema organizzatori della resegna grottagliese che si terrà dal 29 al 30 luglio le associazioni in serraglio e armonie di massafra vero et bonum vero e buono il tema che accompagnerà non solo le degustazioni ma anche le anteprime e non cinematografiche registi e documentaristi racconteranno il mondo del vino partendo dalle esperienze più radicali che stanno caratterizzando le scelte di alcune aziende vitivinicole italiane si comincia il 24 giugno alle ore 20 tra i fichi d'india del giardino ottocentesco di casa vestita nel quartiere delle ceramiche di grottaglie che ospita la proiezione di senza trucco firmato da giulia graglia il documentario racconta la storia di quattro imprenditrici che hanno deciso di occuparsi della produzione di vini naturali a cui dedicano tempo e amore l'unica cosa di certo che ho nella mia vita è che continuano a fare vino questa è l'unica cosa di certo oltre al film la degustazione dei vini delle aziende protagoniste del docufilm e input di riflessione che verranno da due esperti del settore il coordinatore di slow wine puglia francesco moci e il presidente dell'associazione dei giornalisti agroalimentari di puglia nonché giornalista rai michele pretangeli modera maristella bagiolini grazie a tutti